Cotronei si dota di un nuovo polo medico per la diagnostica specialistica, grazie anche al fattivo contributo dei medici del Marrelli Hospital. Medical Division, questo è il nome del centro, è stato inaugurato sabato scorso nel cuore del centro presilano e si dota di molte peculiarità, così come le illustra Nicolo Lopez. Questa idea nasce da mio padre, di fatti la Fallo Group SRL opera su più settori, abbiamo la Information Technology, il Digital Printing, l'Airstylist e la Formazione e ora abbiamo avviato la Medical Division. Questa nuova attività nasce per essere lab per il fabbisogno specialistico nel settore della medicina del territorio crotonese. Grazie ad alcune partnership con Software House abbiamo messo a disposizione dell'utente tramite piattaforma web la possibilità di prenotare la propria visita medica specialistica sia in presenza che in telemedicina. La nostra visione è che ognuno possa ricevere un consulto con il medico specialista senza aspettare il turnover e richiedere un parere medico in qualunque momento dovesse servire utilizzando nel nostro centro tutti gli strumenti per il monitoraggio dei propri parametri. Avvalendoci della collaborazione di medici specialisti nei diversi settori di riferimento siamo in grado di offrire un approccio multidisciplinare nella diagnosi conclusiva. Questo di Cotronei è un centro all'avanguardia dotato degli ultimi ritrovati tecnologici e che si propone di accorciare le distanze dai servizi sanitari di eccellenza senza ulteriori step. In quest'ottica il nostro team si avvale di un'equipe di medici specialisti assicurando la continua valorizzazione e lo sviluppo della struttura. Al fine di diventare già da subito un centro degli alti standard qualitativi abbiamo avviato anche una collaborazione con gli specialisti del Marelli Hospital che presteranno la loro professionalità all'interno della nostra struttura. Chiaramente tutte attività che si svolgono in questo centro però c'è una novità. Certo, è quello che mi preve evidenziare l'avvio del progetto di assistenza e prestazioni domiciliari anche con l'ausilio di strumentazioni di diagnostica. Quindi avendo il nostro obiettivo rispondere alle esigenze delle fasce praticamente più deboli ci stiamo attrezzando con l'ausilio di professionisti esterni per eseguire i servizi di diagnostica ecografica ed ECG a domicilio. Siamo molto fieri di avere nel nostro territorio anche questa struttura siamo certi e saremo collaborativi al massimo con tutte quelle che sono le aziende che intendono investire nel nostro territorio e anche in questo caso specifico daremo loro tutto quello che è il supporto necessario che il comune di Cotronei può garantire. Grazie.